musica 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 ti piace a bestia grande anche a me piace a bestia a ridderci a ridderci certo stoff stoff posto cd anche in dubbio aiutati vero valore ma bestia Sì, certo, va bene, va bene, ok Immagino come possa essere Fabi J Certo Sì Fabi J Ciao Infatti Ho appena visto Fabi J Facciamolo sapere a tutto il mondo Ok Ok Vabbè Ok ragazzi, questo video finisce qui Prima voglio sponsorizzare Michael e William Bei video qui Iscrivetevi Meta the best Iscrivetevi, anche lui bei video Solo 24 iscritti ma è bravo Shadow, grafiche da paura È bravissimo E basta Ti vediamo al prossimo video Cazzo, ho visto Fabi J Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Bu br Beh WHO Ho pirates Sc Bite